Non male come colpo! Adesso tocca a me! Ecco, prendi! Come una ragazzina! Oh, che paura, mamma mia! Sei stanco? Siediti! Smettitela! Mi state distruggendo la stanza! Prendi questo! Non mi hai beccato! Preso! Preso! Così non vale! Manciare stivali non è consentito! E adesso il dessert! Non male! E ora io! Ho vinto! Ho vinto! Sono il più forte! Sono il più forte e il più forzuto! Sotto! Aiuto! E liberatemi! Mi sono incostrato! Che potenza che sono! Grazie! Linda! Ho vinto contro Thanos! Famiglia auguri! Sotto! Subito a mettere in ordine! Presto tornerà la mamma! Mettiti in grombiule! Bel vincitore! Mettiamo subito a posto! Va bene, va bene! Adesso metto a posto! Ti aiuto! Prima di tutto prendi i vestiti! Fatto! No! E i mobili! Chi li metti a posto? Fatto! Che bravo che sono! Non vedo pulito! E questo cos'è? Un nuovo costume? Vuoi fare a botte? Te le do io! Subito via di qua! Sono stufa di tutta questa confusione! Via! Va bene! Me ne vado! Ma non mi picchiate! E adesso laviamo il pavimento! Ehi tu! Verde! Congenati! Sta arrivando la mamma! Che strano gioco che fa Mimma! Non fare il bollaccione! Anche in quell'angolo c'è da pulire! Ciao! Ciao! utsispone! Viere! Viere! Viere!